I giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello di Caltanissetta potranno emettere la decisione nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta antimafia muta d'arma. I magistrati romani della Corte di Cassazione, dopo la valutazione dei ricorsi avanzati dalle difese, hanno deciso infatti di non accoglierli. I legali di Davide Faraci, Carmelo Vella, Graziano Vella e Salvatore Graziano Biundo, tutti condannati in primo grado e in abbreviato, si sono rivolti alla Cassazione dopo che la sezione civile della Corte d'Appello nissena aveva respinto la loro istanza di ricusazione. I giudici della prima sezione penale, secondo gli avvocati Flavio Sinatra, Cristina Alfiere e Salvo Macri, si sono già espressi in procedimenti analoghi e su contestazioni che vengono formulate anche nell'indagine mutata arma, riconoscendo l'esistenza del clan Rinzivillo per la linea difensiva quindi non potrebbero assicurare la piena terzietà. Una valutazione che la Cassazione però non ha accolto a questo punto, tutto torna in mano alla Corte d'Appello nissena, sezione penale, davanti alla quale hanno impugnato le sentenze di condanna anche Mike Vella, Davide Pardo e Andrea Tomaselli, i cui legali ci sono anche gli avvocati Ignazio Ragnolo e Giuseppe Fiorenza, non hanno proposto istanza di ricusazione. Il giudizio di appello prosegue e si arriverà alla decisione.